Beh, come ti resti oggi? Cos'è accaduto? Eh, vabbè, lo sapevo io, lo parlo da sempre. Non è sicuro? Microfono sicuro? Stai registrando? Questa è l'intervista. Ora si sforza a danzare di incisione? Mi fai il piano piano su questo po' di cinema? Ci riesci a farlo? Poi lo mettiamo uno a lei di regalo, l'intervistatrice. C'è nel senso di regalo proprio l'estiliera perché ce n'è uno solo. Sì, no, vedi l'abbigliamento, no? Sì, dipende dal vestito. Dipende da quale uno si mette, se uno si vestita di pelle, per esempio, umana, è l'ideale. Ma io guarda dipendo dallo stato d'animo. Oggi mi sono messa così perché qua, insomma, è un po', si va a rotola in questo posto. E allora, così, dipende un po' dalla giornata, credo che il vestito riflette un po' il tuo stato d'animo. giornaliero come ti svegli, come l'ha fatto il giorno prima, cosa ha sognato. Deve essere sempre se stesso, questa è una responsabilità. Però, cioè, non puoi, non devi cambiare quello che senti davvero, cioè, mai questo, perché... Se no, la musica diventa... non è più interessante, no? Ma io, cioè, come ti ho detto, le radici sono importanti, però credo che il mio sviluppo sia avvenuto anche in altre terre. E quindi non è questo schematismo campanilista che mi interessa portare avanti, di essere nata lì, quindi, la cultura è di lì. La cultura è quella che porta avanti perché conosci tante cose diverse, anche le mescoli insieme. Come sempre dice le altre donne, ammesso che sia vero, credo che sia un problema di secoli, non di anni, di millenni, cioè non è un problema di dire rock, donna rock, donna rock. Dire donna rock è un modo per sminuire il ruolo femminile, secondo me, perché... Cioè, che vuol dire? Vuol dire che la divisione dei ruoli sociali fra maschio e femmina ha operato certe distinzioni per secoli, per mille anni. Nel pensare latino colto era una lingua parlata solo da maschi, per cui già quello era un problema da comunicare, no? Non entravi negli spazi culturali in questo modo. E quindi tutto quello ha fatto la religione, in un certo senso, anche nel cattolicesimo la donna sempre stava vista come qualcosa da coprire. Il corpo invece è una cosa da scoprire, sempre agli uomini dovrebbero vergognarsi di andare in giro, sempre spogliati. Io credo che la donna si deve aprire, non deve essere una cosa vista male, cioè non... Vedi me... Il privato, il privato delle volte ti può influenzare, però in realtà quando ti scrivi una canzone è un po' frutto dell'inconscio, di un'emozione che magari può risalire chissà a quale epoca, è difficile, quando sei in strada incisione sei un po' in uno stato alterato di coscienza, dalle volte, è lì che vengono le cose forti, tipo ogni nananna mi è venuto proprio che non sapevo neanche io se stavo scrivendo o se lo stavo cantando direttamente. Sì, cioè non è tutto così, ci sono delle sfaccettature che hanno, che prendono vita da delle esperienze che uno fa, quindi come donna ci sono delle cose che avrebbero riflette anche come uomo, però non è detto che le esperienze faccio io come donna non può vivere anche un uomo, può essere molto simile. Magari la nanna-nanna è una cosa particolare, credo che esprima molto di più la femminilità proprio perché è il ritmo del corpo della donna che dà origine alla nanna. Ecco, questo qui è un classico esempio di riciclaggio, vedi? Vedi le cose che si riciclano nei fiumi? Un bel troiaio. Come si va, qui dove non c'è più l'acqua? Ah, c'è un po' d'acqua, è sopravvissuta l'acqua. Ma il proprio corpo sicuramente, perché il proprio corpo è una scelta precisa di quello che uno decide, no? Cioè in generale, quindi forse appunto penso che l'anima non violenta della donna sia una grossa forza anti-autoritaria. Questo è sempre stata la caratteristica del femminismo libertario, quindi di un certo tipo di non di parte, non di partito, un femminismo libero. E questo è sempre attuale perché esistono ancora le guerre, esistono gli eserciti, esistono le donne addirittura vanno in guerra e quindi a quanto pare ci sono anche le donne che non la pensano allo stesso modo. Non è detto che il femminismo riguarda solo la donna, il femminismo di oggi riguarda l'essere umano. Ma i pazzi diritti della donna sono appunto diritti umani anche per l'uomo, perché senza una donna libera neanche un uomo è libero. Sì, sul palco, cioè dove siamo un po' tutti amici, ci riconoscono un po' più anche nella vita di tutti i giorni, no? Credo si sente sul palco se c'è qualcuno ti dà, insomma, quando finisce un rapporto, per esempio, che può essere di musica, si sente, cioè la vibrazione la sente anche il pubblico. Quindi è importante sempre avere dei musicisti con cui stai bene. Eh, Marilyn Monroe, questi miti creati dal passato, cioè a me interessa generalmente la donna è il futuro e l'uomo è il futuro, non quello che deve rappresentare un ruolo già vissuto in un'altra epoca. Io ho tenuto la libertà dalla famiglia, perché me la sono voluta a 18 anni, quindi sono una scelta precisa, però a questo sentirsi completamente liberi c'è, cioè perché gli altri non saranno liberi, neanche io sarò libera. Grazie a tutti.